Pagination offre il più veloce setup di progetto per creare documenti di alta qualità, senza dover installare alcun software, plugin e senza bisogno di formazione specifica. Vediamo come si effettua il setup di un progetto. 1. Condividi il layout del documento e alcuni dati di esempio. 2. Pagination esaminerà e commenterà i tuoi documenti. 3. Verranno create delle bozze già automatiche che potrai revisionare e che verranno perfezionate fino a quando non sarai pienamente soddisfatto del documento. 4. Verrà attivato il tuo account e potrai iniziare subito ad impaginare i tuoi documenti. Quando dovrai effettuare delle modifiche al tuo documento, basterà aggiornare il template in design o commentare il PDF impaginato. Pagination apporterà le modifiche richieste, che potrai commentare o accettare. Registrati per una prova gratuita e scopri come creare i tuoi documenti in minor tempo e con risultati migliori. Pagination, la soluzione ideale per trasformare i dati in documenti.